La disciplina del lavoro che si intreccia inesorabilmente negli ultimi anni con la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro possono diventare un cocktail esplosivo, ma anche un cocktail di grandi opportunità per l'impresa, che deve assolutamente assumere personale a libro, a contratto regolare o su chiamata o con voucher, l'importante è che non prenda in carico lavorativo, perché diventa responsabile civilmente e penalmente, della sicurezza ma anche della contrattualistica del suo lavoratore. E' bene ricordare che quando un esercizio o un'attività alimentare di qualsiasi natura, soprattutto bar e ristoranti, che in proporzione rappresentano anche la forza lavoro maggiore nel settore alimentare e dei servizi, viene trovata in fragrante con almeno il 20% di lavoratori in nero, può essere chiusa d'ufficio dalla pubblica sicurezza, non è un problema igienico-sanitario ma diventa codice penale e sarà solamente il magistrato a riaprire quell'attività, se meritevole di essere aperta. L'altro aspetto è il lavoro notturno che ha destato grandi preoccupazioni un po' di anni fa con le discoteche, i locali da ballo, i locali notturni. Dopo la mezzanotte i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza medica perché scattano gli obblighi della sicurezza. Molti ristoratori, molti locali notturni anni fa non sapevano neanche di questa legge e i carabinieri insieme con l'ispettorato del lavoro e l'Inail hanno fatto una strage nelle principali città italiane perché è lì che sono concentrati i maggiori locali.